Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolisse. Parliamo del centro M2 che ieri ha inaugurato la nuova area fitness, una nuova strumentazione e un'offerta sempre più completa. Amalia Mascioli per il centro sportivo M2, un progetto nato nel 2018, poi il lockdown nel 2022, però ci siamo inaugurata la nuova area fitness con un grande investimento da parte della tua famiglia. Si Daniela dici benissimo, era un'idea che avevamo in servo da un pochino, poi il lockdown ha un po' rallentato i tempi, però adesso abbiamo realizzato quello che è per noi un altro passo in avanti, sempre chiaramente per migliorare l'esperienza di fitness e benessere ai nostri clienti. Per cui abbiamo strutturato un nuovo restyling dell'area fitness, quindi sia della zona cardio and tone che della parte funzionale, con un investimento importante di tecnologia solo e esclusivamente tecnologia, quindi diciamo che è il top di gamma nel nostro settore e chiaramente con una proposta di servizi e attività che è sicuramente migliorativa rispetto a quello che abbiamo proposto finora. Non ci stanchiamo mai, non perdiamo diciamo mai l'entusiasmo e la voglia di fare sempre bene e sempre meglio, nonostante insomma il momento difficile vogliamo dare un segnale di positività che sia da simbolo ancora per noi per fare sempre un passetto avanti e per dare ai nostri clienti il massimo che possiamo proporre. Un'offerta che si va decisamente ad ampliare, anzi direi più che altro però pure anche consolidare, perché con questa inaugurazione andate a completare ulteriormente un progetto che avevi in mente è quello dell'area beauty, l'area diciamo nutrizione, l'area per l'appunto fitness che è fatta di terra e acqua per un buono stile di vita che passa sia dal corpo che dalla mente. Sì esatto, lavoriamo sul benessere della persona che passa attraverso vari servizi sportivi, di coccola, di bellezza ed anche chiaramente di relax con la nostra area spa. L'M2 è appunto un mondo pensato a far star bene, chiaramente poi c'è chi questo star bene lo declina attraverso l'acqua, quindi attività di fitness in acqua piuttosto che nel nuoto e attività sportive e chi invece attraverso il fitness e gli elementi a terra, chi perché no attraverso una coccola al beauty e altri invece che desiderano utilizzare le spa e quindi un momento di relax e chi invece gradisce fare tutto e quindi soffrisce in maniera integrata di tutti i nostri servizi. Chiaramente in ogni comparto non lavoriamo in maniera staccata ma c'è un'integrazione importante sia dal punto di vista dei tecnici che erogano il servizio sia proprio della proposta che noi eroghiamo alla clientela. L'idea è davvero quella di generare benessere, come dicevi bene la salute è al primo posto se non curiamo la salute che è forse la cosa più importante che abbiamo difficilmente riusciamo a stare bene e a far star bene le persone che ci sono vicine e se noi con il nostro aiuto e contributo e soprattutto con la nostra professionalità riusciamo a far star bene le persone abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Avete tanto investito però anche sulla formazione dello staff, degli istruttori che poi alla fine sono il vostro frontman con il coloro che si iscrivono. In realtà sono proprio loro il nostro bigliettino, la visita più importante, la garanzia dei percorsi che andiamo a proporre sono tutti quanti ragazzi laureati in scienze motorie, hanno varie specializzazioni, costantemente ogni anno fanno dai due ai tre corsi di aggiornamento cioè nulla è davvero al caso, l'M2 nasce proprio da professionisti per garantire benessere e serenità attraverso programmi specifici costruiti sulla persona e costruiti su tutte quelle attività che meglio si companno al risultato che dobbiamo raggiungere per cui non c'è un protocollo standard, utilizziamo tutti i nostri servizi in base chiaramente anche al gusto del cliente, al piacere del cliente per raggiungere il risultato che il cliente si aspetta, che sia di performance, che sia di benessere, che sia di relax e che sia anche legato allo star bene e a mantenersi in forma. Un'M2 tra l'altro anche impatto zero, visto che adesso è talmente tanta questa linea della tutela dell'ambiente infatti voi non fate più schede cartacee ma bensì tutto tramite app per rendere anche più accessibile il rapporto diretto diciamo comunque con i clienti che possono fare anche velocemente una prenotazione. Assolutamente sì, in realtà l'M2 nasce proprio così già da 12 anni fa per cui forse per alcune cose abbiamo anticipato i tempi sì non utilizziamo schede cartacee da tantissimo tempo, lavoriamo soltanto col telematico con un'applicazione importante che ci consente di seguire il cliente anche quando è a casa, questo sia chiaramente quando fa attività di terra con i programmi che prescriviamo sia perché no anche per l'attività di fitness in acqua e poi nessun impatto, nessuna barriera architettonica, l'M2 è un mondo che ha spazio per tutti, davvero per tutti. Calcio di Serie D, dopodomani si torna in campo per la sesta di campionato al Titella il vasto Girardi ospita il Trastevere, squadra al completo per mister Coletti al Cannarza il Termoli se la vedrà con la Vastese in casa giallorossa, mercato in uscita con il centrocampista Luca Cigliano mentre è stato ufficializzato l'ingaggio del classe 96 Stefano Antezza il neo centrocampista di mister Esposito ha esperienze in Serie D e in Serie C a proposito dei tifosi della Vastese messi a disposizione 100 tagliandi con pre-vendita online domani oggi e domani naturalmente con orari dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19 l'FC Matese al Ferrante aspetta il Porto d'Ascoli in questo momento capolista del Girone F sicuro assente Sorrentino, espulso domenica. Adesso il Calcio a 5 Terza giornata del Girone B della Serie A2 Italpol Euro Calcio a 5, Lazio Cesena, Città di Massa Activity Network rinviata a Cusmo Lise Genzano, Manto Vascoli Piceno, Lido Di Ostia Prato Roma Calcio a 5, Sporting Roma riposa il Modena Campionato di Serie B Girone F, Academy Pescara Domizia Acerra Real Dem, Casa Giove Napoli, Celano Ischia, Frosinone Sulmona Tombesi Colleferro risposa lo Sporting Venafro Via anche i campionati regionali di Serie C1 Raggruppamento A, Miranda Chaminade, Monaciglioni, Montagano Polisportiva Boiano Venafro, Sporting Campobasso, Esernia Fraterna riposa il Caraceno per il Girone B Frenter Larino, Torre Maggiore, Iones Termoli, Torre Maggiore Calcio a 5, Polisportiva Calena Arcadia Termoli, San Severo Porto Cannone riposa l'Union Sagno Turno di sosta forzato per il Cus Molise Intanto ieri sono stati resi noti gli accoppiamenti dei 32esimi della Coppa della divisione i molisiani mercoledì 19 ottobre ospiteranno l'Ecosity Futsal Genzano Domani in campo anche il torneo regionale di C1 Turno di riposo per il CLN Cus Molise nel torneo di A2 la sfida in programma al Palahunimol contro l'Ecosity Genzano è stata rinviata data da destinarsi per la convocazione in nazionale di due elementi della società laziale la sfida contro il roster più forte del torneo almeno sulla carta sarà recuperata con grande probabilità in infrasettimanale poco male per i cussini che hanno l'occasione per affinare la condizione atletica con una settimana di lavoro in più in vista della sfida di sabato prossimo in trasferta contro il Cesena avvio di stagione positivo per Barichello e compagni dopo il pareggio di Mantova è arrivato il successo di prestigio contro la Lazio una gara in stile Cus difesa ermetica ripartenze fulmine e concretezza sottoporta il 4 a 2 contro i Capitolini lascia certezze in seno alla squadra e dal tecnico Sanginario questo Cus può essere protagonista anche nella stagione in corso peccato davvero per il discorso stranieri come noto solo quattro giocatori non italiani possono essere inseriti nella distinta di gara secondo il nuovo regolamento sabato scorso Sanginario ha tenuto fuori De Betio elemento di assoluta affidabilità per inserire Vinicius portiere goleador assente a Mantova per le stesse motivazioni il tecnico ruoterà le pedine a disposizione in vista degli impegni sabato dopo sabato con la certezza di poter contare su una rosa affiatata e di ottimo livello semaforo verde per il campionato di C1 dopo le prove generali della Coppa Italia via alla stagione regolare prima giornata a partire da domani pomeriggio nei due gironi di futsal regionale nel gruppo A lo sporting Campo Basso vuole mantenere lo scettro di campione come nella passata stagione la squadra allenata da mister Pietrunti esordirà domani pomeriggio in casa contro l'esernia fraterna squadra in campo alla palestra Sturzo a partire dalle 16 avvio in trasferta per la Chaminade dopo anni di cadetteria il percorso di Rosso Blu nel torneo regionale riparte dal palazzetto di Miranda nel gruppo B favori del pronostico per il torre maggiore calcio a 5 la squadra pugliese giocherà buona parte del torneo in Basso Molise contro Società di Termoli, Porto Cannone, Larino e Casa Calenda A proposito del Cusso Molise ai nostri microfoni Dilizio che ha commentato l'approccio alla stagione Renzo Dilizio, giocatore del Celenne Cusmo Molise, tre punti importanti per voi contro un'ottima Lazio Calcio a 5 che vi ha messo in difficoltà specie col gioco a 5 però alla fine tutto sommato vittoria meritata Sì 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 vittoria meritata ce l'abbiamo messa tutta, un grande gruppo quest'anno siamo partiti con il passo giusto, speriamo di continuare così Adesso arriva una pausa buona per voi anche per ricaricare le pire, per recuperare qualche infortunato non si va a Genzano direttamente a Cesena, altra partita non facile Per niente facile, quest'anno come anche l'anno scorso ogni partita è alla morte quindi ogni trasferta, ogni partita in casa non si ha mai la sicurezza di portare i tre punti a casa Tu sei un perno di questa squadra, siete sempre dello statura degli anni scorsi, solo qualche elemento in più da voi il mister chiede quello step in più Sì sì, il gruppo è forte, ogni giocatore è importante, non c'è uno più importante dell'altro quindi tutti diamo il massimo per provare a portare questi tre punti a casa partita dopo partita è un grande gruppo, anzi quest'anno è veramente un bel gruppo, giovani e siamo molto felici Nuoto domani pomeriggio a partire dalle 18 l'ex Gillo ospiterà la seconda edizione di stelle del nuoto del Molise la federazione regionale presieduta dal delegato Amelia Mascioli premierà tutti coloro che si sono distinti nella passata stagione ospite della Kermessi, il direttore tecnico della nazionale italiana Cesare Butini basket femminile di serie A1, dopo domani terzo appuntamento in trasferta per la molisana Magnole a Campobasso primo servizio alle 18 in casa del sesto San Giovanni Palla Polo Maschile, domani l'Energy Time Spike Devils affronterà la trasferta laziale di Anguillara per il debutto nel campionato di serie B primo servizio alle 18.30 con diretta sulla pagina Facebook della società Loredana Di Mauro, presidente dell'Energy Time Spike Devils Campobasso presentazione fatta, il primo step diciamo è andato che poi effettivamente vi avvicina a grandi passi verso il weekend dell'otto che vi porterà per la prima volta in campo per il campionato Sì, abbiamo fatto la presentazione della nostra squadra squadra nuova, abbiamo cercato di potenziare la squadra questo lo sapremo solo vivendo il lotto, come hai detto tu, discuteremo la nostra prima partita e questa avverrà in territorio laziale come avevamo già detto qualche altra volta quest'anno giocheremo in territorio laziale sardo e speriamo che i risultati saranno ancora migliori di quelli dello scorso anno Veramente tanto l'impegno da parte vostra nel realizzare un altro obiettivo che avevate quello di una struttura dedicata alla pallavolo e infatti ci siete riusciti con questa collaborazione con la scuola dell'Istituto Montini Portini Cuoco che ospita sì la prima squadra ma direi anche il settore giovanile Esatto, esatto Noi quest'anno giocheremo in un palazzetto a noi dedicato che è quello dell'Istituto Pertini Montini Cuoco in via San Giovanni e come hai detto sì, non sarà soltanto un luogo in cui discuteremo le nostre partite della prima squadra della Serie B che colgo l'occasione di dire che si terranno ogni sabato pomeriggio quando giocheremo in casa alle ore 18 Il nostro impegno è volto soprattutto per incitare quelli che sono le figure giovanili, i ragazzini, i ragazzi più piccoli a giocare a pallavolo e quindi invito tutti, coloro che vogliono a venire a provare il gioco della pallavolo nella nostra palestra Ginnastica ritmica dopodomani La Molisana Arena ospiterà il campionato individuale Gold Junior Senior Zona Tecnica 5 La manifestazione affidata allo Sporting Boviano si svolgerà a partire dalle 11 Calcio regionale, questione stadio Selva Piana Sembra che la società Rosso Blu stia provando a risolvere tutti i problemi per disputare la partita contro Lisernia in programma il prossimo 15 ottobre proprio nello stadio cittadino Tanto il lavoro societario sotto la nuova egida di Rizzetta e Cirrincione pare che la dirigenza si stia adoperando anche ad una variazione della forma giuridica per una conversione del campo basso in SRL una delle tante tappe che la dirigenza stessa si è prefissata di portare a termine Un ottimo mix di giocatori quello a disposizione di Pino Di Meo fatto di tanti giovani molisani e di valore che già avevano frequentato la prima squadra non più di qualche mese fa certo sarebbe stato meglio per la loro carriera e per campo basso calcistica che la crescita fosse proseguita nel professionismo ma ad oggi tant'è ci si trova a raccontare un campionato di eccellenza che il campo basso 19 proverà a vincere ad ogni costo domenica possibile che Di Meo conceda uno scorcio di partita a Francesco Ripa a risolvere tutti i problemi connessi a Selvapiana per disputare la partita del 15 ottobre contro Lisernia proprio nello stadio cittadino è una notizia delle ultime ore ma rimane un problema di non facile soluzione lo stadio è tornato nella piena disponibilità del comune proprietario della struttura ci mancherebbe altro aggiungiamo noi grazie al successo abbastanza scontato dell'Isernia sul Castel di Sangro è avvenuta l'operazione a gancio dei pentri ai rosso-blu in vetta alla classifica come era facile ipotizzare sarà un lungo e combattuto testa a testa in campionato fra le due società che rappresentano i capoluoghi del Molise in cui le date del 15 ottobre del 18 febbraio 2023 potrebbero avere un peso importante nell'economia della classifica le date in questione si riferiscono agli scontri diretti altrettanto facile prevedere come il cammino di entrambe possa essere caratterizzato da un gran numero di vittorie agevoli domenica rosso-blu a Boiano contro la squadra locale allenata da Savino Ianni Ruperto e Isernia in casa contro l'Ururi la gara dei Biancocelesti verrà preceduta da un momento celebrativo dedicato a Vincenzo Mingione, calciatore dell'Isernia che taglierà il traguardo delle 300 presenze con la maglietta Biancoceleste Intanto domani si apre con gli anticipi la quinta giornata in eccellenza e promozione Si apre il sipario in vista di un weekend ricco di anticipi per le categorie molisane di eccellenza e promozione sono ben sei appuntamenti in agenda per domani quinta giornata di campionato per la massima categoria regionale scendere in campo il sesto campano che dopo il recupero infrasettimanale della seconda giornata in casa del Boiano terminato con un pareggio è pronto a scendere nuovamente in campo domani per la gara casalinga con l'arrivo dell'ostico campo marino reduce invece dall'ottima prestazione contro il Castel di Sangro con un finale di 4-1 per Iomeni di Tanga ad arbitrare la gara sarà il fischietto del signor Ibrahim Rashid della sezione di Imola situazione ancora molto complicata per il campo di Pietra formazione che dopo lo schiacciante 8-0 inflitto per mano del Guglionesi si appresta ad ospitare il Pietramonte Corvino squadra attualmente al nono posto in classifica dopo aver sconfitto Laura Raururi riuscendo a rimontare ben due gol di svantaggio designato per questa gara il signor Matteo Pasqua della sezione di Termoli passiamo invece alla serie B regionale con la prima sfida al Tilia Samneumbo e Svairano la formazione campana di Mr. Forgione a quota 0 punti che risiede al quindicesimo posto della classifica dopo la netta sconfitta di 6-1 in casa dei Don Chesagnone ospiterà i cugini della Bois Vairano Iomeni di Mr. Scalera sono riusciti nell'ultima sfida contro il Ripalimosani ad agguantare ben 3 punti utili per salire a quota 7 dopo sole 4 giornate di campionato la sfida sarà arbitrata dal signor Francesco Colella di Termoli l'affare invece da padrone di casa è il Trivento che dopo lo scorso pareggio interno contro l'Atletico San Pietro in valle sarà impegnato nella trasferta in casa della polisportiva Juveness formazione reduce dall'ottima prestazione contro la polispetacciato la quale ha permesso agli uomini di di Niro di conquistare l'intera posta in palio designato per questa gara il fischietto di Federico Corvo della sezione di Termoli spostiamoci a Roccaravindola dove il match fra i padroni di casa del Termoli 2016 sarà diretto da Paolo Izzo della sezione di Isernia i giallorossi reduci dalla mara sconfitta contro la capolista polisportiva Fortore affronteranno i blucerchiati i quali dopo aver conquistato i purimi punti sagionali grazie alla vittoria per ben 5-1 a Montenero di Bisaccia sono riusciti ad abbandonare l'ultimo posto della classifica occupato invece attualmente da Tileasamnium e Polispetacciato proprio i gialloneri domani saranno impegnati sul campo del Ripalimosani dove la formazione locale ha sfruttato al meglio il vantaggio del campo amico per il petacciato dunque non sarà un'avversaria facile per conquistare i primi punti sagionali la gara che si terrà presso il Vita Antonio sarà diretta da Patrizia Petraione di Campobasso fischio d'inizio per tutte le gare di domani fissato alle ore 15 Dopo la mara sconfitta contro il Pietra Montecorvino l'Ururi dopo domani farà visita all'Isettia Mario Di Lullo giocatore dell'Aurora Ururi Mario una partita, una sconfitta non pesante di più Sì, è una sconfitta che fa male soprattutto perché nella prima frazione di gioco penso che abbiamo fatto molto bene purtroppo non abbiamo concretizzato molto poi nel secondo tempo siamo riusciti a fare il secondo gol e poi c'è stato un blackout che ci è costato caro perché abbiamo subito tre gol in pochissimi minuti poi abbiamo provato a pareggiarla e a fare qualcosa però ci siamo sbilanciati e abbiamo costruito poco Un blackout dovuto a cosa secondo te? Ma non lo so, probabilmente c'è stato un calo di concentrazione che non possiamo permetterci soprattutto contro squadre come il Pietra Montecorvino che è una squadra molto esperta e una squadra molto forte che darà sicuramente fastidio a molte squadre nel campionato Vi aspettano giornate in salita, testa bassa e pronti ad affrontare la prossima squadra? Sì ma alla fine siamo solo la quarta di campionato quindi c'è tempo dobbiamo solo lavorare, lavorare di più magari quello che abbiamo fatto non è ancora abbastanza anche se abbiamo avuto comunque un calendario difficile però bisogna solo lavorare e fare meglio Trasferta in casa della capolista anche per la Cliternina che domenica sarà ospite del Fortore Luigi Di Lello, bello il gol, bella la prestazione peccato per voi che poi nel finale siete stati ripresi però alla fine resta la bella prestazione anche avete buttato le ortiche il 2-0 però loro sono stati sempre in partita Sì, purtroppo c'è il rammarico di non averla chiusa prima la partita non è bello prendere la gola al 93esimo però purtroppo se non la chiudi prima o poi il pareggio arriva e quindi peccato per noi, buono per loro però il campionato è ancora lungo adesso affronteremo attualmente prima in classifica la prepariamo nel meglio dei modi e andremo lì per fare il risultato come tutte le partite che giochiamo per vincere Senti, bello il tuo gol, ha tagliato Florio in mezzo all'area di rigore eri solo praticamente, loro avevano una difesa schierata però ti sei avvitato bene e scaricato in fondo al sacco Sì, in settimana negli allenamenti cerco sempre di dirgli di metterla sempre in mezzo perché ho il fiuto del gol quindi nei movimenti li faccio bene, attacco bene gli spazi e sono contento a livello personale che è arrivato il primo gol stagionale Perché sei uscito? Avevo un po' di crampi, post partita anche di mercoledì in sette giorni abbiamo giocato tre volte e non ce la facevo quindi ho chiesto al mister di cambiarmi Domenica contro la proesportiva Fortore, la prima della classe l'abbiamo vista anche a Termoli negli ultimi giorni una squadra molto forte, arriva dalla prima categoria ma è una squadra che punta a vincere il campionato Sì, con delle conoscenze che abbiamo attorno mi sono un po' informato giustamente di che giocatori hanno mi hanno parlato bene di questa squadra saremo pronti a disputare una gara come questa perché giochiamo tutte le partite per vincere come è giusto che sia dobbiamo puntare al meglio per questa squadra È tutto per questa edizione del nostro TG Sport Buon pomeriggio